Musica Buonasera amici di Globus Television e benvenuti ad una nuova edizione di Globus Sport News, il notiziario sportivo a cura della nostra redazione. Partiamo con la Serie A. La Roma, nel giorno del commovente addio di Francesco Totti, batte il Genoa per 3-2, chiude il campionato al secondo posto, evitando lo spauracchio dei play-off di Champions League. Terzo il Napoli, a cui non basta il 4-2 rifilato alla Sampdoria. In coda, straordinaria impresa del Crotone, che batte la Lazio per 3-1 e conquista la salvezza in virtù della sconfitta sorprendente dell'Empoli a Palermo. Sugli altri campi si registrano le vittorie della Juventus, 2-1 a Bologna, dell'Atalanta 1-0 al Chievo, del Cagliari 2-1 al Milan, dell'Inter 5-2 all'Udinese e del Torino 5-3 contro il Sassuolo. Pari tra Fiorentina e Pescara per 2-2. Passiamo alla Serie B. Stasera Carpi e Frosinone si giocano l'accesso alla finale play-off per la promozione in Serie A. Basta un pareggio alla formazione di Marino per conquistare il passaggio del turno. Nell'altra sfida il Benevento dovrà difendere l'1-0 dell'andata contro il Perugia. Passiamo alla Serie C. Il Catania continua a preparare la prossima stagione, quella che dovrà consegnare il riscatto definitivo. Passi in avanti per Cristiano Lucarelli. L'ex Messina è vicinissimo alla panchina etnea. Manca poco perché arrivi l'ufficialità. Con lui è possibile che alcuni elementi della formazione peloritana compiano lo stesso percorso, andando a vestire la maglia rossa-azzurra. Primi fra tutti De Vito, Grifoni e Milinkovic. Intanto festeggiano la salvezza Acragas e Catanzaro, che vincono il play-out contro Melfi e Vibonese. Passiamo ai motori. Sebastian Vettel e la sua Ferrari vincono il Gran Premio di Monte Carlo, precedendo sul traguardo il compagno di squadra Kimi Raikkonen. Terza posizione per Daniel Ricciardo su Red Bull. Male le Mercedes. Quarto posto per Bottas, mentre chiude settimo Hamilton. Per il tedesco adesso sono 25 i punti di vantaggio sul britannico nella classifica piloti. Chiudiamo con il Giro d'Italia. Tom Dumoulin vince la centesima edizione, precedendo il colombiano Nairo Quintana e Vincenzo Nibali. Decisiva la cronometro finale in cui l'olandese ha mantenuto i favori del pronostico. Era questa l'ultima notizia di oggi. Vi ricordiamo che per rimanere aggiornati su tutte le notizie sportive, potete collegarvi col portale www.globusmagazine.it. Un saluto dal vostro Niccolò Marchese e buon proseguimento di serata con i programmi di Globus Television.